Aperitivi, assembramenti e multe. Il bel tempo ha scatenato la voglia di uscire e nell'ultimo weekend in zona gialla sia giovani che adulti si sono riversati in centro storico e sul lungomare. I bar e i ristoranti sono stati presi d'assalto e sono fioccate decine di sanzioni. Infatti la stretta voluta dal prefetto Vittorio Lapolla ha portato ad un aumento dei controlli. A Pesaro i vigili urbani hanno sanzionato tre locali, chiuso anche un ristorante sushi di via Ponchielli. I carabinieri invece, intorno alle 22.30, hanno fatto irruzione in un garage in strada degli Olmi dove era stata segnalata la musica ad alto volume. All'interno c'erano 15 ragazzi tra i 22 e i 24 anni che avevano pensato di far festa senza mascherine. Tutti multati e uno di loro è stato segnalato alla prefettura perché aveva in tasca qualche grammo di hashish. A Urciano poi i militari hanno chiuso per 5 giorni un bocciodromo dove si era verificato un assembramento di quasi 200 giovani. Stesso provvedimento al bar Extra Boccio di Pergola, ma qui sono stati sanzionati anche tre clienti. Sempre nell'entroterra, ma Sant'Angelo invado, i carabinieri di Urbino hanno controllato alcuni avventori di un bar intenti ad acquistare bevande alcoliche alle ore 20. I clienti sono stati sanzionati, così come il titolare, per aver svolto l'attività al di fuori dell'orario consentito. Anche lui dovrà chiudere per 5 giorni. Le violazioni delle norme anticontagio non sono mancate neanche accoglie al metauro, dove le forze dell'ordine hanno segnalato una sala da ballo, il settimo cielo, sia al comune che alla procura. La porta del locale infatti era chiusa a chiave, ma all'interno c'erano persone anche se distanziate. Il sindaco Andrea Giuliani, su richiesta dei carabinieri, ha emesso un'ordinanza di sospensione dell'attività. Inoltre, il titolare è stato denunciato per il mancato rispetto delle norme di sicurezza pubblica. Verbali elevati anche a Fano, dove è stato chiuso il caffè delle scienze in via Ugolino dei Pili. Oltre 200 le attività controllate. Un'attività commerciale purtroppo è stata chiusa in modo preventivo per 5 giorni. Poi si resta in attesa della decisione della prefettura su come eventualmente procedere e in che modo sanzionare. Inoltre, tre persone provenienti da fuori comune, prosegue l'assessore, sono state sanzionate perché senza mascherina. Sono state identificate anche decine di cittadini in un'attività di controllo congiunta con il commissariato e l'arma dei carabinieri. Che cosa risponde invece al Nuova Fano che denuncia una carenza di organico del comando della polizia locale? Non c'è bisogno che sia un Nuova Fano a denunciare una carenza di organico perché sono la prima a dire che abbiamo necessità di implementare l'organico della polizia locale. Abbiamo iniziato a farlo già lo scorso anno con l'introduzione di nuove figure come nuovi ufficiali e stiamo lavorando proprio in questi giorni per aprire dei concorsi sia per personale stagionale che a tempo indeterminato. Ma va anche detto e ricordato che abbiamo un programma triennale del piano Assunzioni che ci impone dei vincoli stringenti motivo per cui non è così semplice andare a coprire quelle che sono vere e proprie mancanze nel corpo della polizia locale di Fano.